Il messaggio che voglio inviare è che bisogna essere sportivi, le altre squadre non sono nemiche, sono avversari che è diverso, viva lo sport, viva il futbol, sempre, grazie. Ci sono momenti in cui l'attesa serve a resettare nel caso di chi ha perso male all'esordio contro la Juve. A caricare chi non vede il campo dalla finale della Summer Cup e per mesi ha potuto solo guardare attendendo questo momento. Si è parlato, anche troppo, adesso basta, adesso si gioca, è il giorno di Inter-Lazio. Bentornati sul mio canale, benvenuti a Milano con questo ritorno della YouTuber League, terzo match della seconda stagione, 23-24, dopo Lazio-Juve che ha aperto il girone A e Milan-Roma che ha aperto il gruppo B. Torniamo nel girone A, rimaniamo a Milano, seconda gara di fila in questa città, ma cambiano le squadre. Da una parte l'Inter, dall'altra la Lazio, una partita che non è inedita perché è il sesto incrocio tra queste due squadre nella storia del web e di queste competizioni. Molte partite si sono giocate a 5 e alla YouTuber Summer Cup c'è quel precedente, il Super Derby del 2022, in cui la Lazio vinse col gol di Iaio 6-5 nel finale, insomma quella è storia. Ci sono tantissimi temi da sviluppare all'interno di questa partita, lo faremo tra un istante con chi mi supporta come sempre, Ma prima di partire e di accogliere lasagna, permettetemi di ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero NordVPN, che con l'avvicinarsi del Natale ha deciso di regalare agli spettatori della YouTuber League un'offerta esclusiva e io ne ho già approfittato, quindi so che è molto interessante. Ve ne parlo meglio tra poco, intanto vi consiglio di dare un'occhiata qui sotto in descrizione. Detto questo, accanto a me, come sempre, lasagna! Ciao Fede, come stai? Bene, oggi non gioco quindi sto anche rilassato, no? Infatti si vede, lo sapete. Sì, dolce vita, invernale, tipico. Comunque, sono molto contenta che tu abbia già anticipato alcune cose di questa partita, ovvero che ci saranno moltissime novità, come per esempio che Arbitrino non sarà più solo. È partita piano, occhio. Esatto. In che senso non sarà più solo? Ci sarà infatti qualcuno che lo affiancherà. E stiamo parlando di Home. Di Home che siamo felici di accogliere, perché? Perché come sapete, insomma, dell'aspetto arbitrale abbiamo parlato spesso. Per noi è doveroso supportare intanto il lato arbitrale, perché non è mai facile fare questo mestiere, parliamoci chiaro. Arbitrino spesso è additato. Noi vogliamo metterlo nelle migliori condizioni per arbitrare. E non è semplice mettere in bar. Esatto. Ne abbiamo già parlato. Quindi una figura come Home, secondo me, poteva starci. Secondo noi ne abbiamo parlato con le squadre. E quindi abbiamo optato... Soprattutto per dare due occhi in più ad arbitrire. Non è un guardaline, non è un quarto uomo. Sono due occhi in più che lo aiutano a prendere la giusta decisione. Però non solo. Iniziamo dal lato Inter, che c'è una grossissima novità, ovvero un nuovo attaccante che entra in rosa, ovvero Andrea Fratino. L'MVP della scorsa YouTube League. È così, dalla Juve all'Inter. Però il tifoso è l'Inter. Sempre sta. Giustamente, finalmente, oggi riesce a giocare con la sua maglia. Ma sempre parlando dell'Inter della Summer Cup, adesso vediamo uno dei suoi grandi protagonisti, se non è il protagonista dell'Inter della scorsa Summer Cup. Proprio lui. Nella sua partita. Perché oggi non lo vedremo più con la maglia dell'Inter, ma lo vedremo con i colori bianco-celesti. Eh sì, ne abbiamo parlato. Sono usciti dei contenuti qui su YouTube. Vi ricordo di seguirci su The Corner, intanto, e su tutti i nostri social, perché lì analizziamo il dietro le quinte della YouTuber League. Sono usciti, escono ogni tanto alcuni estratti su YouTube. Quello su Jay Pata e la sua estate un po' travagliata. È già online. Esattamente. Però è una Lazio... Che comunque ha Jay Pata, ma ha degli svantaggi, perché non saranno presenti tutti... Per esempio la Lazio entrerà in campo con un uomo in meno. Infatti Giannop purtroppo non è riuscito a venire a questa partita. Quindi la Lazio ha già delle assenze, perché manca BC System, che è il portiere titolare, oggi verrà sostituito, e manca anche l'allenatore che è Mattalini. Savage quindi allenerà, perché nell'alternanza lui iaio, oggi gioca iaio e Savage allena. Io comincio a scaldare come sempre la voce, perché fa veramente freddo, ma fortunatamente ho il dolce vita. Sei una crema. È romana proprio. Stai una crema. Mi ha detto stai una crema. Savage, oggi ti vediamo per la prima volta come allenatore. Sei sempre stato anche una figura molto, molto importante e centrale per la tua squadra in campo. Pensi di poter essere più utile da bordo campo? No, perché non ho mai allenato. Sono qui per sostituire il grande Gianluca Mattalini, perché poi bisogna fare questa rotazione, come si è già detto su The Corner. Tra me e Iaio. Quindi mi hanno chiamato a fare questo ruolo. in questa partita, perché poi ogni partita ci sono diverse formazioni, cioè cambieranno. Oggi mi hanno chiamato a fare questo ruolo e sono felice. Sei felice, ma sei all'altezza? Boh, non credo. Ah, ok, ciao. Ciao. Vai. Ti vediamo oggi come allenatore a bordo campo e volevo chiederti qual è la strategia con cui oggi l'Inter scende in campo. Allora, la strategia in realtà non è così complicata. Più o meno la rosa è quella dello scorso anno. C'è una novità, però. Fratino che comanderà il reparto offensivo. Però, attenzione, che ci saranno dei stravolgimenti. Non vogliamo dare troppi riferimenti. Quindi, nel corso della partita poi ci saranno dei cambi, sicuramente. Hanno dimostrato di volermi bene fin da subito e soprattutto di volermi squadra. Mi hanno valorizzato. Io apprezzo tanto questa cosa. Oggi sono un giocatore della Lazio e darò tutto per la Lazio. Ovviamente, nella vita non si può dire... cioè, mai dire mai, diciamo, come detto. Nel domani, non lo so, vediamo. Perché anche Salmo all'inizio faceva un tipo di musica, adesso si è venduta un'altra. Ma rimane comunque il mio idolo, capito? Finalmente riesci a giocare con i colori, diciamo, che ti rappresentano di più. Eppure non sarai più, diciamo, accompagnato dal tuo storico compagno, Luca Campolunghi. Come vedrai questa YouTuber League senza di lui? Beh, sicuramente è diverso. Mi manca, lo sa. È un compagno di reparto ottimo. E ho visto che già ha fatto sei gol e la Juve ha vinto. Sono contento e saluto tutti i miei ex compagni. Oggi la Lazio gioca con un uomo in meno. Come la vedi? Allora, la vedo un po' come Napoli, in realtà. Perché noi, quando dobbiamo fare le trasferte, se non succede qualcosa, non è, appunto, la nostra trasferta. In realtà, Napoli, poi, tanto male, non è andata. Quindi, non è tanto quello il problema. Abbiamo un po' cambiato i piani, chiaramente, che c'eravamo un po' fatti con le formazioni, ma nulla di incredibile. Ovviamente, una buona guarigione a Giannop, di cui, comunque, sentiremo la mancanza. E quindi, dovremo correre per un uomo in più. Magari quest'uomo in più lo potrà fare Jay Pata. Magari potrà fare la differenza, che è la prima volta che lo vediamo in campo con la Lazio. Io lo spero. Io spero faccia i due uomini in più che gli abbiamo chiesto di fare. Dentro lo spogliatore ho detto, eh, oggi mi tocca trajardare. Sì, devi trajardare, assolutamente. Bisogna impegnarsi all'inizio, all'ultimo, e giocarcela. L'ultimo scontro che avete avuto con la Lazio, diciamo che siete riusciti a vincere grazie a un gol di Jay Pata. Adesso, però, Jay Pata è dall'altro lato. Avete paura? Avete un po' di timore per questo cambio? Sicuramente sì. Jay Pata è abbastanza immarcabile. A sette non lo so, però spero di no. Nel dubbio facciamo un raddoppio e speriamo di contenerlo. Allora, ragazzi, arriviamo da una bruttissima sconfitta. Ho visto carichi, treno, abbiamo parlato della partita, pranzo abbiamo parlato della partita, siamo pronti. Dobbiamo correre per un uomo in più, perché Gianno purtroppo non c'è. La scorsa stagione di YouTuber League diciamo che abbiamo fallito, abbiamo perso molte partite. Non abbiamo avuto accesso neanche a una finale, secondo me perché è mancato il cuore, ma soprattutto la costanza, perché al primo tempo spingevamo, eravamo quasi sempre in vantaggio, e poi al secondo tempo c'era un calo drastico che ci metteva lì a perdere le partite. Quello che vi chiedo oggi è, non sottovoltavi agli avversari, hanno perso contro la Juve, però secondo me, essendo che loro giocano tanti anni insieme, dove metà squadra è nuova, metà abbiamo giocato a 5, metà abbiamo passato l'anno scorso. Un po' incasinate l'inizio, però io credo in voi. Con tanta voglia, con tanta voglia di una mattina, la fine sono un'unitaria di casa. Uno, due, tre, razio! Partono gli ospiti, con il numero uno, Poci Pugliese, col 21, Marcello Boldi. Sfiora il gol da centrocampo da almeno due secoli, vediamo se è la volta buona. Col 24, Nemos! Capelli al vento da Fashion Week. Rispetto a Brad Pitt, sa anche difendere. Col numero tre, Giovanni Stramacci! A Roma, se dice coatto, qui potrebbe essere un fresco di zona. Con il numero sette, Iaio! Col 23, Lorenzo Roma! Col la nove, Valerio Varamo! E adesso è il suo momento. ha dominato la YouTuber Summer Cup. L'ultimo gol lo ha segnato proprio alla Lazio, con la maglia della squadra che ha sempre difatto e che tutto un tratto è diventata avversaria. Era promesso sposo della Juve, ma ha scelto questi colori. Col 90, Jey Bata! Entra il capitano della Lazio, entra in dieci, Gigi! È il momento della squadra di casa, di quella che non scende in campo da quattro mesi, da quella finale della YouTuber Summer Cup persa contro il Milan. c'è la rabbia, c'è la fame, c'è l'Inter! Con il numero uno, Luca Leoni! Luca Leoni! Più birre in corpo che partite giocate! Luca Nerazzurro! Nasce come difensore, anche se in settimana gli abbiamo chiesto dove avrebbe giocato e lui ha risposto Bo Inza! È un incrocio tra Beckham e Antoni e ovviamente per i capelli, Venom! Sicuramente più bello quando tuerca che quando imposta, ma quanto stile! Isaac! Cuore argentino a tinte nera azzurre, garra e qualità, Italo! Uno dei centrocampisti più forti di questa competizione, fisico, dribbling e tanti, tanti gol, Gunter! È la new entry, è l'MVP della scorsa YouTuber League, quest'anno ha scelto il cuore, quest'anno ha scelto l'Inter, Andrea Fratino! Dopo una Summer Cup col suo Bologna torna qui, è il capo cannoniere del confronto con sei gol, è Pierino! E lui invece è il trascinatore della squadra, è quello che c'è da sempre, ha alzato due Summer Cup, segnato gol illegali, oggi si rimette in quella fascia per rappresentare i suoi colori, il capitano dell'Inter, Gnabri! Ed eccole qui, i dieci dell'Inter per i due cambi, la Lazio invece gioca in nove, l'abbiamo anche evidenziata questa situazione, l'assenza di Giannoppe, dell'ultimo minuto, il saluto al pubblico, due tempi da trenta minuti, come sempre lo sapete, in caso di parità, si va ai calci di rigore, è tutto pronto per il calcio d'inizio, prima però, io ve lo dico, non comincia il video se non vi iscrivete al canale, che è fondamentale per supportarci, per i prossimi eventi della YouTuber League, per non perdervi i contenuti in uscita, mi raccomando, iscrivetevi, vi do uno, due, tre secondi, sono sufficienti, partiamo! È cominciata Inter Lazio, col tocco di fratino, via il terzo match della YouTuber League 23-24, via il secondo match del gruppo A, dai ragazzi! Iaio, uno contro uno, si accentra, calcia in porta, Leoni! La viene lì, calmo crack, calmo! Quindi Italo, scarica ancora verso il capitano, deve triplare anche arbitrino, passa Gnabri su Stramaci, passa Gnabri fino in fondo, punta di Gnabri, Poci Pugliese, primo intervento del portiere odierno della Lazio, che si iscrive così a questa YouTuber League, Faldi, anzi, Lorenzo Roma, ha messo in movimento Pata, il duello tra due che potevano essere compagni di squadra, Pata e fratino, ha sgasato Jay Pata, è tornato in calcio d'angolo Pierino, si è iscritto pure Jay Pata a questa partita, Gigi se la riprende, dribbling uno, e poi scarico, a trovare Pata, uno contro uno, salta l'uomo, calcio di punizione per la Lazio, eccolo, l'uno contro uno vincente di Jay Pata, di scarbitrino, tocco vicino per Pata, Murato, ultimo tocco che, Nerazzurro, palla alla Lazio, Faldi corto, Lorenzo Roma, deviazione di Leoni, ancora calcio d'angolo, sempre Lorenzo Roma, su palle inattive come a Napoli, lo scorso anno, altra palla sul 23, la prepara per calciare, tocca in più, e poi riapre, dribbling di Jaio, che la rimette dietro, Lorenzo Roma, questa volta alto, Paramo, balleggia la Lazio, Paramo a scavare come sempre, il pallone per Jaio, Leoni, coi pugni, palla in fallo laterale, Emos, stai guardando la partita, stai prendendo le misure, per tirare da centrocampo, anche oggi? Voglio provare, oggi ce li proviamo dai, se lo fai mi offri da bere dopo, hai ragione, perché io, i social non li frequento, cioè non c'è questa cosa, hai ragione, scusa, scusa, guarda, commento la partita, che attacca la Lazio, con Pata, Jay Pata, si iscrive così, e comincia in questo modo, la sua YouTuber League, la sua avventura con la Lazio, 0-1 a Milano, sono avanti i ragazzi di Gigi, e sono avanti, con l'ultimo arrivato, col colpo invernale, con Jay Pata, 1-0, Pata, stop, occhio che parte Jaio sulla sua verticale, Pata converge, e poi serve Gigi, bella palla, è bell'idea, yeah, yeah, 2-0 per la Lazio, eccola qui, l'esultanza che voleva, perché è diventato papà per la seconda volta, ce la dedica, però, l'Inter protesta per un fallo di mano, intanto 2-0, arbitrino, e home stanno parlando, siamo 1-0, e comunque, un 2-0 per me, è gol, è gol, gol confermato, dopo un check, assieme a home, arbitrino, conferma la decisione, Inter 0, Lazio 2, se non hai mano questa, dai, chiusura, e poi Lorenzo Roma torna sul pallone, in qualche modo è buono per Gunter, morbido a cercare Fratino, che la fa passare, Fratino Murato, da Lorenzo Roma, i due che si sono giocati l'MVP lo scorso anno, i due padroni del centrocampo delle rispettive squadre, la scava Fratino, controllo di Pierino, e poi Gunter deviazione, ancora calcio d'angolo, reazione rabbiosa dell'Inter, Gunter, torna in zona tiro, prepara, e calcio, alla Gunter, alla Gunter, bentornato alla YouTuber League, 1 a 2, pensavate fosse finita, avete sbagliato canale, 2 a 1, stiamo andando, vai, dai, ancora, dai Gabriel, occhio dietro qua, crack, dai, 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 stiamo a giocare bene, sono sicuro che la Lazio non deve mollare, oh, 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 è chiaro, è chiaro, è chiaro, tu per chi ti fai quindi per la Lazio? io ci fai per l'Inter bro, è come la Lazio non deve mollare, e poi ti fai per l'Inter, occhio perché c'è ancora Gunter in possesso, quando ci fermiamo un attimo, Pierino, esterno della rete Gilbert, esterno della rete, Pierino, che fai, che fai, da lì segnavite, da lì, ragazzi era dentro, Giambroi, Giambroi, vuoi un gol, così ti prende nella mia comunità, De Germacco è stongo bro, tutto chiaro, insomma, perché, perché non rimontarla a questo punto, anche con le dediche di Gilbert, ma torniamo in diretta, perché è un momento, capite, di difficoltà anche per me, la partita è bellissima, spinge l'Inter con Gunter, che ha aperto su Gnabri, quindi Fratino la lascia ancora, a Gunter, che prepara, in destro deviato, Pocci Pugliese, stiamo subendo troppo, Gipata, sei un mercenero, sei un mercenero, io ho visto la tua faccia, tu sei l'ostre giocatore, vai segnare lì, e esulta, aspettiamo, insomma, queste dure accuse, da parte di Gilbert, mentre c'è Fratino, che va sul destro, poi in buca, deviazione, ancora Fratino, altra deviazione, Lazio, che sta giocando, alla Murigno, lì dietro, qui ancora Fratino, la sposta, poi dentro, grande idea su Gnabri, che non è riuscito a controllare, rimessa sempre per lì, no, per la Lazio, per la Lazio, no, per l'Inter, dava indicazioni contrarie, arbitri no, Guter, Pierino, suola, va sul destro, è la sua zona, tocco dentro, anticipo di Stramaci, su Fratino, e Lazio che sta ripartendo veloce, ne contro piede come sempre, con Aiaio che corre, sul secondo palo, fino in fondo, il pallone di Varamo, fino in fondo, Valerio Varamo, che si toglie la maglia, 3 a 1 per la Lazio, 3 a 1 per la Lazio, 3 a 1 per la Lazio, Gigi stop, Gigi, 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 4 volte Lazio, segna anche il capitano, come sempre contro l'Inter, incredibile, incredibile, ragazzi, il livello è troppo forte, l'Inter deve fare l'acquisto al mercato, se no, non va bene, ma che allenatori sono? ma che allenatori sono? 4 a 1 per la Lazio, è bastato togliere Savage, ed è cambiato tutto, sto scherzando mister, ci mancherebbe, per precisare, Gianluca Mattalini, fa ridere, mentre l'Inter spinge con il legnale, la scava dalla parte opposta, su Pierino, che la sposta, poi mette il cross, Gunther! Prima del portiere, ma alto, l'Inter c'è, è che la Lazio segna, adesso occhio anche i volti, questa fase, incredulità nell'Inter, mentre calcia pata, e vola Leoni, e vola Leoni, come ha calciato, come ha calciato il 90, testa su Fradino, Giovanni su Fradino, c'è Gunther largo a destra, visto e servito, controllo orientato, testa alta, Gunther sul fondo, fischi arbitrino, 4 a 1, per la Lazio, a fine primo tempo, Gilbert se la canta, la Lazio se la suona, la Capolizia se ne va, la Capolizia ancora aiuta, la Capolizia è l'Inter, oggi, ma lì come fai, se i Capolizia, stanno sotto 4 a 1, ragazzi, perché, loro vanno sotto, sotto classifica, ha senso, ha senso, bravo, ha senso contrario, è giusto, ragazzi, io penso che ha meccato l'Inter, lo ha comprato il giocatore, possiamo dire, Gilbert Nanna si propone all'Inter, sì, sì, ragazzi, vediamo quello che il presidente possa dire, ragazzi, la Lazio, io vedo un Lazio troppo forte, 4 a 1, contro l'Inter, che vedo con il giocatore, di tanto calda, con Gnabi, Frattino, e tutti gli altri, ragazzi, 4 a 1, fai paura, prima cosa, prima cosa, siamo stranervosi, figa, ok che è andato male il primo tempo, ma non serve, abbiamo fatto il 2 a 1, cazzo, stavamo giocando, potevamo benissimo riprenderla, poi, quelle partite, ha dribblato tutti, cazzo, non può andare così facile, ci sta a calciare, però un'altra cosa importante, figa, non urliamoci contro, oh, siamo della stessa squadra, figa, dobbiamo aiutarci, tra di noi, non insultiamo gli altri, dobbiamo aiutarli, figa, tra di noi, cazzo, non recuperiamo, dai, ed è fattibile, perché se prendono un gol, siamo 4 a 2, ne prendono un altro, 4 a 3, come in mezz'ora ne abbiamo presi 4, ne possiamo fare benissimo 3 per parecchio, al primo tempo c'è stato un grosso dislivello, loro giocano bene da squadra, non capisco come abbiano fatto a perdere 9 a 3 con la Juve, noi non ci troviamo, la prima volta che troviamo con Frattino, ci sono tanti meccanismi che ci permetteranno un po' a rodare, come possiamo fare, semplicemente più voglia, crederci di più, dobbiamo giocare più di squadra, perché loro hanno fatto 4 gol di squadra, bellissimi, noi l'unico gol è stato non giocato del singolo, così ne perdiamo altri 4, di questo va cambiato. Io ti volevo chiedere qualche spiegazione in più sulla dedica della maglia che avevi visto durante il gol, appunto durante l'esultanza. Il ciucetto, diciamo così, perché sono diventato nuovamente papà, di una bellissima femminuccia, che è uscita l'altro ieri dall'ospedale, e sono contentissimo. Ti amo papà, Giulia, bella. Prima di scendere in campo con il secondo tempo di interlazio, vorrei parlarvi dell'offerta di NordVPN, ovvero una rete virtuale, ma se è la più popolare, un motivo ci sarà. Ed è la sicurezza. NordVPN vi permette di navigare senza esporvi a fastidiosi rischi, grazie al servizio antivirus Threat Protection, ma non solo, vi permette di tutelare la vostra privacy online, ed è un ottimo alleato per proteggersi dalle truffe. Ma lo so, questo l'avrete già sentito in giro, d'altronde è il servizio VPN più popolare, quindi pensiamo all'offerta. Con le feste di Natale in arrivo, non solo vi offre uno sconto esclusivo, ma in più vi aggiunge ulteriori 4 mesi extra sui piani biennali, così da navigare in sicurezza per molto tempo. Che regalo, eh? Inoltre, se provi il Plus, puoi ottenere ad un prezzo speciale il pacchetto NordPass, che intanto vi permette di memorizzare le password in modo sicuro, e poi vi avvisa se mail e carte di credito sono state oggetto di furto di dati. Ve lo dico, accedere a questa offerta personalizzata per gli spettatori della YouTuber League è semplicissimo, vi basta cliccare sul link qui sotto, qui in descrizione, lo vedete? Ecco, è quello, bravi. E farlo, inoltre, aiuta a sostenere il canale e la YouTuber League, quindi vinciamo insieme. Buon Natale da NordVPN e buon secondo tempo a tutti! Si riparte con il possesso della Lazio e con il 4-1 biancoceleste per il momento. Ovviamente bisogna vivere il secondo tempo e capire come e se cambierà questa partita, soprattutto se cambierà l'aspetto psicologico dell'Inter, che nel primo tempo non ha giocato bene tatticamente ed è sembrata troppo nervosa. Iaio! Prende il fondo, però anche l'Arabona, adesso si permette un po' di tutto la Lazio, il pubblico risponde presente, non per l'Inter ma per la Lazio, mentre riparte l'Inter con Pierino, che ha aperto Venom, dentro il pallone, allontanato da Baldi, e poi aggancio di Pata che palleggia, e ripropone su Iaio, 1 contro 1 con Inza, saltato, tacco, Pata, 1 contro 3 adesso, va da solo J Pata, cerca la giocata, poi mette il cross per Iaio, che non arriva, ma alle sue spalle c'è Pierino, e c'è anche la ripartenza dell'Inter, corre Pierino, fino in fondo, poi punta, Poci Pugliese, classica giocata di Pierino, con la conclusione di punta, ha risposto il portiere della Lazio, e sta ripartendo Gigi, Pata, salta l'uomo, zona tiro, poi apre, no, mette palla fuori, perché c'era a terra Pierino, sì, ha avuto un problema Pierino, sono comunque applausi, perché gli dà manforte la Lazio, con due avversari, che lo scortano fuori dal campo, in bocca al lupo, a Pierino, perché rischia la partita, di perdere un grande protagonista, credo che mi abbia, uno schieramento, ceduto la caviglia, camminare cammino, però non riesco più a giocare, stramici, Lorenzo Roma, ragiona la Lazio, che adesso giustamente palleggia, al quinto minuto della ripresa, Pata, col controllo alla Jay Pata, puttani apri, uno che esce, uno che esce, Lorenzo Roma, non ha calciato, arriva Stramacci, che ci pensa, poi dentro ancora, palla comunque buona per Pata, che arriva su tutti i palloni, un paio di dribbling, e poi ha riaperto, Stramacci, controllo, tocco dentro, ancora Stramacci, ancora, Italo a chiudere, avvicina Italo, palla sul secondo per Gunter, ancora più lunga, e arriva Ayaio a metterla giù, dentro per Pata, che può andare, rincorre Italo, Pata, Leoni, e poi Italo, in calcio d'angolo, adesso il tema è chiaro, l'Inter si sbilancia, la Lazio continua a ripartire, e rischia di dilagare, Andre sei solo eh, Andre sei solo, puntalo se vuoi, punta Baldi, che non si fa saltare, poi Fratino torna gliela porta via, Fratino dentro, deviazione di Poggi Pugliese, e Lazio che si salva ancora, bene dai dai, che arriva, alzare verso Gnabry, che bellezza, che bellezza, il pallone di Fratino, che bello, il colpo di testa di Gnabry, che golasso dell'Inter, eh si, si segna un altro gol, mi metti in mutante, non salire, Gigi, non salire troppo Gigi, Italo non crossa, va da Fratino, controllo così così, poi sinistro, mi stavo fomentando, un pochino, perché quando Fratino, fa un calcio in qualche modo, è sempre interessante, mentre parte opposta, c'è Pata che resiste, doppio dreaming, triplo, e poi, lo fa così, lo fa così, ne ha saltati tre, e l'ha messa sotto, la traversa, abbiamo un nuovo, fuori classe assoluta, la YouTuber League, ha fatto, quello, che ha voluto, come fosse un campo lunghi, qualsiasi, 5 a 2, la doppietta dell'ex, la doppietta del fenomeno, e anche Gnabry, si congratula, con Gigi, Pata, bellissimo, bellissimo, il primo, il secondo, il terzo dribbling, e poi quel destro, cos'è che non sta funzionando, nell'Inter oggi? è la prima partita, che facciamo con, con Fratino, eh, ti dico, guarda, Fratino, è un ottimo giocatore, però credo che noi, sarebbe stato più funzionare, un J Pata, proprio perché a noi, manca la punta, Wunter e Andre, in mezzo al campo, cozzano, capito, cioè, è come una lotta di gerarchie, capito, chi comanda qui a centrocampo, e questo è il grande problema, Wunter, prende il fondo, fuori per Fratino, dribbling, passa, giù, calcio di punizione, sotto l'occhio attento di Arbitrino, tutta la Lazio, e sottolineo, tutta la Lazio nella propria area di rigore, rischia Arbitrino, Fratino, muro, anche qui, Italo, Wunter, dentro il pallone, contatto, non c'è niente, secondo Arbitrino, c'è Om lì vicino, vediamo un po', Arbitrino chiede a Om, momento importante, da qui, e io sono a un chilometro e mezzo, sembrava tutto pulito, Italo, la sposta, va in porta, nessuna deviazione, e pallone, e termina sul fondo, Leoni, altra palla lunga, direttamente in zona Pocivugliese, ed eccolo qui, il fisco di Arbitrino, è tornata la Lazio, 5 a 2, per i ragazzi di Gigi, in casa dell'Inter, in casa della nuova squadra di Fratino, in casa dei ragazzi di Gnabri, in casa di chi, praticamente sempre, in quei 5 precedenti, aveva trionfato, è vero che la Lazio, il Super Derby, lo aveva vinto, è vero che c'era stato un altro successo, nella prima YouTuber Summer Cup, tra l'altro 5 a 1, anche quello molto rotondo, ma l'Inter è stata praticamente sempre, in questi anni, la bestia nera, della Lazio, soprattutto, nella Summer Cup, il primo incrocio, nella YouTuber League, lo vincono, i biancocelesti, e salgono, come leggete dalla grafica, quota 3 punti, come la Juve, l'Inter a 0, che adesso è complicato, c'è la differenza reti, aritmeticamente, non è deciso nulla, ma la Juve, un piede sì, ce l'ha, in finale d'andata, e vedremo, nella sfida tra Napoli e Milan, che si giocherà, nella data che vedete qui a schermo, nel luogo, che vedete qui a schermo, come si aggiornerà, anche la situazione, nell'altro gruppo, quello che mi viene anche impegnato, come giocatore. Che cosa avrebbe potuto migliorare, questa Inter oggi? Allora, mentalmente, sicuramente, il secondo gol della Lazio, è di arbitrino, e, mi spiace dirlo, ma è così, e mentalmente, avrebbe potuto, dietro la squadra, tornare in partita, il campo era molto largo, a noi comunque, sicuramente da sempre, ci manca un attaccante, purtroppo, al centro campo, facciamo abbastanza bene, ma senza un attaccante, siamo in difficoltà, la difesa è piuttosto debolina, c'è una squadra che bisogna rinforzarsi, speriamo che riusciremo a trovare la quadra, poi sicuramente, dobbiamo cercare di giocare un poco di più, di squadre, trovare i propri ruoli, è stato particolare anche il campo, che è un campo a nove, non ci avevamo mai giocato, in un campo così grande, però la Lazio, sicuramente, è una squadra che gioca meglio di squadra, noi facciamo fatica, facciamo fatica, perché tanti non, non sono giocatori, quindi, puoi fare quello che puoi fare, ma non puoi fare tutto per tutti. Gigi, torniamo da te, torniamo da te con una Lazio, che si, prende la propria rivincita, dopo l'ultima Summer Cup contro l'Inter, e volevo chiederti, da adesso in poi, che nonostante comunque il girone sia concluso, volevo sapere un po' le tue impressioni su questa partita, e sulla Lazio, che hai portato anche oggi alla vittoria. Allora, sono molto contento dei ragazzi, abbiamo fatto veramente una gran bella vittoria di squadra, perché siamo stati sempre compatti, non ci siamo mai disuniti, che era un po' quello che era mancato con la Juve, lo dicevo anche post-gara proprio contro la Juve, abbiamo provato un po' di cose nuove, credo che si siano viste, penso abbiano anche portato i loro frutti, dobbiamo continuare così. Davio, io ti volevo chiedere, invece, alcuni propositi e alcune promesse, magari per le prossime partite, magari di vedere un Inter un pochino più unita, più squadra? Dice benissimo, anche perché dobbiamo ripartire, proprio per un discorso di squadra, siccome si è notato in campo, come loro, sono una vera e propria squadra, giocavano da squadra, c'era più alchimia rispetto a noi, che ci sono tanti volti nuovi, secondo me è questione di tempo, e oggi purtroppo si è dimostrato. E quindi ce l'hai fatta, Savage, per merito tuo, la tua squadra è riuscita finalmente a vincere contro l'Inter, complimenti. Grazie, posso dire, non ho fatto niente, il mio ruolo qui è la presenza, è importante riconoscerlo, e metterci la faccia, l'abbiamo fatto, quindi, però la prossima è gioco, meglio di così. C'è ancora campo, c'è ancora campo, c'è ancora campo, l'ho fatto ancora, l'ho fatto ancora, chiude Babbo, c'è Lazza, giù Ragnar, e Ragnar cosa fa? Ragnar, Basta si faiare, vabbò un faiare giù si, sei un faiare giù si! Grazie a tutti.